un volantino nuovo condividi il video con chi fa acquisti in questo negozio metti mi piace se ti piace questo volantino invece scrivi nei commenti i volantini che vorresti vedere su questo canale e se vuoi rimanere sempre aggiornato su offerte e tendenze attiva la campanella dopo esserti iscritto buona visione e buona giornata grazie a tutti 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 grazie a tutti